Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. In stato confusionale si era allontanata da casa a piedi nonostante fosse già buio e avesse problemi di deambulazione. La figlia di una donna 62enne di Monsan Pietro Morico, allarmata, ha quindi chiesto aiuto ai carabinieri della compagnia di Montegiorgio. La donna era stata avvistata lungo la strada provinciale in direzione Montelparo, poi di lei si erano perse le tracce. Viste anche le temperature prossime allo zero, immediatamente i militari hanno attivato un accurato dispositivo di ricerca che nel giro di due ore ha permesso di rintracciare la signora a circa 500 metri da casa. La malcapitata era però caduta in un fossato in una zona di campagna nella frazione di Monsan Pietro Morico e quando i carabinieri di Montottone l'hanno individuata, era incastrata tra i rovi e aveva diverse ferite alle gambe. Dopo essere scivolata, era rimasta lì, bloccata, impossibilitata a muoversi e a chiedere aiuto. Fortunatamente, grazie al pronto intervento scattato dopo l'SOS lanciato dalla figlia, i militari sono riusciti a salvarla, affidandola alle cure dei sanitari del 118 che l'hanno trasportata all'ospedale di Fermo. Una disavventura a lieto fine che si è conclusa ancora prima di attivare il piano della prefettura per le persone scomparse. Invece, a tre mesi e mezzo di distanza, ancora nessuna traccia di Piaconti, la 94enne di Amandola allontanatasi da casa lo scorso ottobre. Nonostante le ricerche effettuate per settimane da una nutrita task force di soccorritori, coadiuvati anche da velivoli a raggi infrarossi del quindicesimo stormo dell'aeronautica, l'anziana sembra sparita nel nulla.